Nella sfida contro l'Empoli il Napoli fa quello che deve fare, ritrova la vittoria, ritrova i tre punti, ritrova la cosa più importante, cioè vincere e lasciarsi alle spalle le prestazioni di un periodo sicuramente tra i più bui e negativi dell'intera gestione di Maurizio Sarri. Il Napoli che trova quindi di nuovo una vittoria importante, certo al termine di una prestazione non esaltante contro l'ex squadra dello stesso mister Maurizio Sarri, nella quale sono stati decisivi soprattutto gli spunti in attacco di un Mertens sempre più imprescindibile nel gioco offensivo della squadra azzurra. E' un Napoli che ora si concentra ovviamente sulla sfida alla Juventus, a Torino, allo Juventus Stadium, laddove non ha mai vinto e laddove vuole ovviamente sfatare questo tabù e laddove sarà dura, ma la Juve ha dimostrato nelle ultime partite di non essere una squadra imbattibile e di essere una squadra comunque in un periodo non eccellente di forma e quindi se la giocherà.